Lorenzo Bonomi è un uomo a cui il rugby bresciano dovrà per lungo tempo riconoscere un enorme senso di gratitudine. Imprenditore che investì proprio nella pallovale sin dagli inizi del movimento. Fu il presidente del rugby Brescia dell'anno dello scudetto del 75 ed allora continuò il suo lavoro all'interno prima della formazione cittadina, ma non stanco si impegnò anche nella neonata allora calvisano. La realtà nasce almeno per quanto mi riguarda fin dai tempi del Brescia targato Concordia, dello scudetto, del dilettantismo leggermente camuffato, ma che aveva delle profondi radici nel lavoro e nel rugby come sport puro. Questo è passato attraverso anni a Calvisano dove da una pura realtà comunale siamo riusciti ad arrivare alla Serie A. Lo stesso Bonomi però dopo anni di intenso impegno e sacrificio proprio rivolto al rugby decide di togliersi di mezzo, complice proprio la mutazione che stava subendo la disciplina in Italia. Da quei tempi ad oggi l'evoluzione fino al professionismo italiano ha portato grandi risultati da un punto di vista immagine per i risultati della nazionale, ma purtroppo a mio modo di vedere ed è stata una delle ragioni per le quali io mi sono uscito dall'ambiente perché prevedevo che avrebbe portato poi la distruzione dei club. Nella realtà così purtroppo si è evidenziato nel corso di questi anni, società sempre più impegnate, società sempre più indebitate, dimenticanza totale di talenti che nascono dai settori giovanili, per cui devo dire non mi stupisce proprio niente che le cose siano arrivate a questi punti. La ragione di questa voragine che mano a mano negli anni è diventata sempre più grande, Bonomi la identifica nella mancanza di tradizione, ragione dell'attuale collasso. Dove non c'è tradizione tutto è ballerino, la tradizione è fatta dai figli dei dirigenti, dagli amici degli amici, non c'è rugby nella scuola, non c'è rugby all'oratorio, non c'è rugby nella testa delle mamme, non ci sono club che abbiano tanta storia dietro di sé, per cui ogni cosa nasce per caso, non nasce con una programmazione, con una storia alle spalle. Quindi di fronte a questo parlare di un futuro certo credo che sia una pura utopia. Dopo la decisione di Calvisano di ritirarsi dall'eccellenza nell'ambiente si sono diffuse dispiacere e delusione, ma non sono mancate nemmeno le critiche che Bonomi piasima fortemente. La delusione chiaramente non può che essere condivisa, Calvisano ha fatto una storia, credo irripetibile, paese di 6.000 abitanti, campione d'Italia, credo che sia più che giusta l'amaressa e la delusione dei tifosi, degli sportivi, degli amici, ma non deve andare oltre, perché nessuno ha tradito, anzi, qualcuno forse è andato anche al di là delle proprie possibilità, pur di mantenere e far emergere ancora di più quella che è la realtà. Ho letto con molta attenzione quello che si è scritto in questi giorni sulla vicenda e devo dire che sono rimasto anche molto, molto ammareggiato, perché persone come Gavassi, come Casali, ma ripeto a Gavassi in particolare, che nell'ombra hanno lavorato per anni, hanno sacrificato molta della loro attività, delle loro ore disponibili, non aggiungiamo la parte economica perché è retorica, credo che vedersi trattati come i dirigenti che tradiscono, come società che scappa non sia per niente piacevole. Io credo che a gente così vada a fare solo un monumento e chi ha avuto la fortuna di partecipare a questo ciclo non debba altro che ringraziare questi dirigenti.